Musica Martedì 25 ottobre, ben ritrovati con l'edicola, lo spazio che qui su TRMH24 dedichiamo alla lettura di alcuni quotidiani che troverete appunto oggi nell'edicole. E come di consueto partiamo subito con una lettura veloce delle prime pagine nazionali di Repubblica e Corriere della Sera. Partiamo proprio da Repubblica, focus destra di governo ciclone Salvini su Meloni. E poi leggiamo insieme nel sommario il vice premier leghista non perde tempo e appena ha insediato detta l'agenda delle priorità. Rispingimento dei migranti, flag tax e modifica della legge Fornero. E poi sulle nomine dei sottosegretari Forza Italia ne rivendica 12 e dice Senza di noi l'esecutivo cade. Congresso PD intanto Bonaccini incalza il segretario nominato entro marzo. Poi oggi la fiducia. Meloni presenta il suo manifesto Europa, bollette e antifascismo. Intanto il nuovo premier inglese ha 42 anni e figlio di un'indiana. Eccolo in questa immagine di oggi. Diritti, lavoro stranieri in fuga dall'Italia. Allarme da parte delle imprese dichiarano non arrivano più. Invece il Corriere della Sera. Piano lungo 5 anni. Ecco il nuovo governo. Pari opportunità. Intanto polemica su Proccella. Porti, armi e balneare. Elite sulle deleghe. Premier alla Camera per la fiducia. Oggi offensiva di Salvini su migranti e pensioni. E nell'immagine invece vediamo il presidente dell'Ucraina, Zelensky, che guida la nazione dal 20 maggio del 2019. Il 24 febbraio di quest'anno, ricordiamo, è iniziata l'invasione russa. E c'è piena intesa con Meloni pace dai russi solo ricatti. Andiamo nel taglio laterale. Bonus bollette, un'altra proroga. Teste intanto sul nucleare il sì di picchetto. Continuiamo la nostra rassegna con il nazionale della Gazzetta del Mezzogiorno. Il manifesto della Meloni oggi alla Camera. Il vice premier presenterà il programma per la legislatura. Squadra di governo, trattative per scegliere viceministri e sottosegretarie. Sui fondi del PNRR, Bari tra modernità e consapevolezza è dibattito in corso. E affoggia, il soccorso affoggia, dato li va a giudizio. Si farà un processo per l'inchiesta Icaro. E continuiamo sempre con le gazzette. Leggiamo le prime pagine della Gazzetta di Bari e poi Basilicata. Andiamo su Bari. È un giallo risolto della Transambra. Arrestato un pescatore di Trigiano. La vittima fu uccisa quattro anni fa a San Giorgio, forse dopo un rapporto sessuale. Manutenzione dei bus Amtab. Non ci furono reati, vengono così tutti assolti. Si smontano l'inchiesta. Dieci anni dai fatti. Nessuna irregolarità. E infine, i tagli bassi, assegnate le progettazioni per i sei lotti di costa sud. E dai quartieri parte il porta a porta di oli, pile ed elettroniche. Ieri appunto l'assessore Pietro Petruzzelli nei quartieri già serviti da porta a porta. In Basilicata invece stop ai referti inviati via e-mail per gli anziani ospedali d'inferno. Si registrano disagi nel materano e un comitato dei cittadini ci negano pure di andare al mioli dopo lo stop del nosocomio barese verso cittadini non pugliesi. Bonus gas e fumata grigia. Comuni e regioni vanno avanti. Arriva l'accordo sugli elenchi intanto, ma non sul resto. bando per chi non ha invece il metano. Ci spostiamo adesso sulle pagine interne del Corriere del Mezzogiorno. Andiamo subito nel paginone dedicato alla politica oggi. Partiamo con l'autonomia differenziata, le barricate di boccia. Prima la legge sui LEP dice. Il senatore del PD teme uno scatto in avanti di Calderoli e chiede il riconoscimento dei livelli esistenziali delle prestazioni. E poi famiglie, runner, ciclisti lungomare preso letteralmente da saldo, chiudetelo al traffico. Ecco la richiesta da parte dei baresi che chiedono lo stop alle auto per voler godersi al meglio il litorale tutto. E ancora, gara truccata a giudizio, l'ex direttore del Riuniti, Vincenzo Dattoli, che è coinvolto appunto nell'inchiesta sull'affidamento, come leggiamo insieme nel sommario, del servizio di elisoccorso. Processo intanto per altre sette persone. Pronte vaccini? Tutto pronto per la quinta dose ai fragili? Influenza sagionale prima del previsto? Interviene l'assessore alla salute della regione Puglia, Rocco Palese. Terzo richiamo per gli over 80, dice, e per chi soffre di patologie importanti in campo, anche in questa tornata, i medici di famiglia. Con la cronaca, anche il Corriere del Mezzogiorno riprende la vicenda della trans, uccisa a San Giorgio quattro anni fa, uccise un travestito a coltellate, stato preso il fuggiasco con l'auto in panne, appunto, un pescatore di Trigiano. Andiamo adesso nelle pagine interne di Repubblica Bari. L'apertura, gli sprechi del numero unico, perché tre sedi invece di una, le audizioni in regione sul servizio, in cui confluiranno tutte le telefonate di emergenza, in realtà non è mai partito. Andiamo proprio nelle pagine interne. la città costa sud via agli incarichi per disegnare il nuovo parco. Il cantiere è stato suddiviso in sei lotti, ciascuno dei quali viene affidato a progettisti che hanno partecipato al bando di gara. E anche qui, Amiu, rifiuti nuove postazioni per la raccolta, ieri appunto il presidio dell'assessore Pietro Petruzzelli nei quartieri periferici di Bari. E riprendiamo in pagina 2, l'apertura di oggi, numero unico, due sedi di troppo, errori, sono costati 800 mila euro. L'audizione in regione sul servizio, in cui confluiranno tutte le telefonate di emergenza, e che non è mai partito, Amati dice, perché puntare su tre centrali, il caso dei costi aggiuntivi sostenuti, per correggere i progetti sbagliati. E infine Amtab, tutti prosciolti dopo cinque anni, nessun appalto pilotato per il fatto, e questa è la sentenza emersa ieri. E continuiamo con la lettura della prima pagina del quotidiano di Bari. A Sibari, che Capitombolo, persi finanziamenti per 11 milioni, anche dal capoluogo addio a interventi milionari, che col Salento toccano le non invidiabili vette dei 30 milioni. E poi, nelle pagine interne del quotidiano, un'analisi, che fine ha fatto la candidatura di De Caro a segretario nazionale del PD, in un sondaggio nazionale tra gli iscritti ed elettori DEM, il suo nome infatti non figura. E infine chiude la Fiera del Levante, lo sappiamo domenica 23, si sono chiusi i cancelli dell'85esima edizione della campionaria più grande del Sud Italia, con oltre 200 mila visitatori. E adesso sull'edicola del Sud, come sempre Bari, e poi Basilicata. Andiamo su Bari. In primo piano, la notizia di Cronaca fu un pescatore ad uccidere la Trans, i fatti risalgono a quattro anni fa, la svolta appunto nell'indagine sulla morte di Ambra, il presunto assassino in manetto a quattro anni di distanza. Infrastrutture strategiche per lo sviluppo sui cantieri, il focus dice, non c'è tempo da perdere. Tagli bassi, l'inchiesta affoggia gare pilotato, otto a processo, c'è pure Dattoli sui numeri. I vari quotidiani riportano diverse appunto persone a processo, sono comunque sei quelle che vanno a processo, non otto. Verso il congresso, il Movimento 5 Stelle spinge Emiliano alla guida del PD e poi con la musica, stasera a Lecce, il ritorno dei Negramaro parte infatti da Lecce, il loro tour. Invece adesso sull'edicola del Sud, l'apertura riguarda il centro-destra e i litigi interni, la Basilicata si ferma. L'accusa il Movimento 5 Stelle Lucano invita il governatore Vito Bardi a staccare la spina. E poi, Ferro Sud, ora bisogna convocare un tavolo tecnico, dice, e poi sui gruppi ambulanti le priorità del presidente. E bufera sui social, Salvatore cita Almirante ed è subito polemica. E infine, leggiamo la prima pagina del Sole 24 ore, gas, il prezzo scende sotto i 100 euro e ancora rally dei mercati, Milano registra un più 1,9%. Crisi del gas e mercati, piazza affari, la migliore in Europa, rendimenti dei titoli di Stato intanto in calo e poi monito che arriva dalla FMI per Germania, Italia, il PIL in caro nel 2023, crescita zero invece in altri paesi. E vediamo proprio a Pechino, la crescita cinese ferma al 3,9%, nel terzo trimestre l'obiettivo era invece un balzo del 5,5%. Chimica a flessione in tutta la filiera per il caro energia, interviene FederChimica, ha presa, pesa il rincaro dell'energia tra giugno e dicembre, output verso in calo invece dell'8%. E infine dalla Philips in rosso taglia ben 4.000 posti di lavoro. E questa era l'ultima notizia che abbiamo letto insieme e come spesso vi ricordo molte di queste notizie saranno approfondite nel corso dei nostri telegiornali, pertanto vi invito a rimanere ancora sui nostri canali e vi auguro un buon proseguimento di giornata. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.